ok rieccoci su guild wars com'è c'è luca ciao e qui abbiamo appena preso una vista siamo come è che si pone a questo posto blood tide coast e niente un po diverso da dove eravamo prima nel senso un po meno ghiaccio o piana brulla siamo in una mezza palude diciamo e arriva al mare mangrovi non lo so allora rescue prisoners from pirate cages steal cannon balls or destroy pirate supplies and cannons bisogna trovare pirati sono qua seguiscimi all'altra parte si vabbè stavo guardando una cosa scusami il signor le palle di cannone i cannoni erano già distrutti cannoni non so se partivano già forse erano già distrutti e che cavolo devo portarle le palle di cannone ma lei io le prendo e basta ti danno qualche punto oppure lancia l'agente oppure lancia l'agente no cavolo arriva arriva tardi e ci sono dei supplies altri altre palle di cannone spero che si restaurino quei qualcuno è caduto ho visto e ho sentito ah qua ci sono i supplies e chi c'è dietro di te? eh ci stavo guarda... eh non vedevo da dietro dietro di te ok dai abbastanza veloce e quando scappato così vedi questo vale orta di un buccaniero un buccaniero un buccaniere di un buccaniero non mi raccomando vedi 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 ok ok Kinder Bueno cosa faccio liberare questi qua? eh no no li devi liberare si anche se li gira questi dicevi liberare provo a parlarci oppure ci sono delle cose da da prendere ah le keg no le keg ho finito comunque ok io perchè sono fermo? lì avevo il corpo che non ci muovevo allora adesso c'era un evento che proprio penso sia già finito ma io non ci porto caso se andiamo in su ci sono 9 qui c'è un punto di interesse che non ho preso e su ci sono due skill point e giù c'è un... giù c'è quello che vuole giù c'è quello che mi sto attaccando andiamo dai skill point ok passare prima da là ok passare prima da là ninja si salutami qua c'è una specie di rifugio delle dei pirati no sai sono andato dall'altra parte verso il punto... verso lo skill point tu sei andato dove... dio solo so anch'io so non so nemmeno dove sono poca sopra c'è Susan Degree o che sarebbe ho trovato un way point ho trovato lo skill point ho trovato... ehm... una vista cioè la vedo anch'io la vedo la vedo come... lo skill point... cioè... aspetta che sto arrivando... son sopra skill point ma non... e io sono sopra di te ehm... che brutti immagini come che bruna sono lento sinceramente nel mio corpo che non è da caccia, è da guerra si sono arrivato ero un po' in alto, segue dai resistante ehm... sei finito di lanciare di shuriken te power is me ok basta faccio vedere la supermossa papà ehm... perchè il mio cuore non fa come si riesce a fare oh mio dio penso che faccia abbastanza male il golem no tu non lo ammazzi ahahahah abbiamo evitato che quello ne lo prendesse ahahah che strazzi che siamo ehm... andiamo avanti di qua che mi sembra che è qua sotto un punto di interesse l'interesse non mi frega niente a nessuno nei punti di interesse ehm... ah c'è un... ah c'è un... hm... c'è un gate qua dentro il mio... il mio... golem sta... picchiando qualunque cosa si muova ah... e non è una cosa positiva però beh... eh... quanta roba che c'è qua in quest'isoletta e dai sale... il punto di interesse comunque l'ho trovato non me lo segna però l'ho trovato non so perchè forse bisogna andare sotto che cosa il punto di interesse eh quello dove ero andato io è quello dove ero andato io che in basso in pratica c'è un gate ci sia quello che vuole ok eh vista eh le sto arrivando non posso perchè sono in combattimento ma non sono in combattimento ok tu sei l'unico dai ok eh... l'accidenti dai punti ti noni 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 eh... cerca di non soffiare sul microfono ok ecco non ho respirato adesso eh non è problema mio venghi che facciamo l'altro skill poi piove 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 c'è da far fuori la inquest tanto per cambiare mmm non so da dove si passa ah si passa da qua ok gli inquest sono ovunque come i gremlins no come gli screed gli screed ancora sono ovunque eh... la confusa allora questi qua questi qua questi in questi devono barre delle barre hai capito Delle barre non barre delle... I barili ah ok eh son questi No barre... no barre che le è canna Barrel E' la canna delle armi Ah ok O meglio Forse anche il barrel Perché non possiamo Prendere Che roba Ah bisogna usare i cannoni per fare lo skill point Wow Finito l'evento Completata Eh bisogna prendere i cannoni Si dice di usare un cannone Fire in cannon si sa poi il preciso E poi ti ence Eh cosa devo lanciare Cosa devo prendere Prendermi moa Devi colpire tre bersagli sul Io sparo con Ah ah sono l'hai bersagli Non li vediamo perché non potrò Anche attaccato Sì Lion Guard togliti che mi togli la mira Non ce la farò mai Oh oh No di poco Allora sto Lion Guard si leva dalle balle No ma dai ma le ho preso Dai 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 Eh la madonna l'ho tirato a Catwoman Sì ma è presente che ha quelle specie di spade Le spade no Che specie di spade Ha le spade Hanno in mano delle spade o no Ah E io le ho tirato fra quelle due Fra le spade e la testa Oh uno l'ho preso Hai fatto il match Io no non l'ho preso Non riesco a prendere quello là in alto in alto Ehm Ehm Non so più in là Presi due Eh è un mito Come hai presi due Ho preso due Oh Lion Guard ha capito che doveva togliersi Dai 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 Sì ma l'ho preso ma non mi ha detto niente Sembra di giocare a bocce Ma se lo prendi ti dice qualcosa No lo vedi Finito Eh te te l'ho dato lo stupid Sì Finito Ma non mi Non mi dà niente Questo è anche perché Sono nei cannoni Nel cannone sbagliato Sono Li vedi che si rompe la Diventano più sottili Non so Stai sparando quelli che ho già rotto io O almeno non lo so Magari tu li vedi ancora interi E io li vedo con una caschetta Li vedo Non so Forse li vedi interi Oddio Ehm più se è forte Ehm più se è forte Allora Intanto Intanto giurirà Ci sarà qualcosa dentro questa cavolo di forte o no? Dentro? Questo cavolo di forte ci sarà qualcosa Ah non lo so Avrei fatto un headshot C'è una tizia inquietante Con una maschera E non è una Cioè È un NPC Quindi in teore Non dovrebbe essere una Mesmer Anche se Tutti Questi Lion Guard Sbagliano tra le maschere Luca Ehm Ok non capisco E non capisco Quando è che l'ho preso o no Lo capisci Perché il barile Che hanno intorno Si rompe E diventa una roba più sottile Ah po Però vero ancora Questo mi fa pensare Che tu non abbia colpito neanche uno Probabile Forse perché tiro troppo forte E' migliore Cioè devi beccare il barile Non devi beccare l'altra roba Sì sì Mi sto cercando Un cazzo di scato No va troppo in bar Ah ma basta che colpisci anche il muro Quello sotto sì Basta che colpisci il muro Mi vado da uno scout Bisogna buttarsi in mare Tranquillamente Cioè Ecco Ehm Bisogno a fare una quest qua Ah anche se è una quest bastarda perchè io l'avevo già iniziato a fare una volta ed è brutta e dai perchè non lo prendi ci passo in mezzo una balena basta io ne ho presi due mi sono al secondo adesso quando puoi vieni dove sono qua dove sono qua un attimo che devo prendere la mira ok questo è un po' più forte troppo forte siii dopo mesi e mesi di duro lavoro ce l'ho fatto c'è qua bisogna far fuori dei cavolo di generatori che ci metti una vita per farli fuori e devi farne fuori sei è brutto ah ok io ho uno scout come visualizzare un attimo lo scopo c'è un deep sea shark andiamo a farlo il deep sea shark è più facile è più veloce ed è anche più divertente bello è più tutto io vedo degli in questo qua dentro eh fregate devo andare a farlo il deep sea shark ah beh è un evento ecco perchè è quello che stavo facendo prima Luca ahhh è il barbatrucco che cavolo è stato ok l'ho trovato tecnicamente sarai sopra lo ah e no sono sotto lo squalo non sono sopra sei sotto lo squalo lì tento ah eccolo lo vedo nonostante tutto ho qualche dubbio è un po' troppo potente per farlo da solo per farlo in due mi sa che sta venendo verso di me si è giusto che faccia così scappa 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 oh c'è un punto se non vuoi prendere andiamo avanti a fare l'altro evento allora era meglio quello però cazzo non c'è nessuno però se la prende con le meduse con le? meduse è presente le meduse beh non sono proprio lentissimi sti container da rompere se facessimo lo step come fai a saperlo scusa? ah ci sono anche i fisilitum cosi no li sto facendo adesso? sei arrivato adesso? no questo qua è abbastanza letto eh beh c'ho anche un un altro inquest sopra che mi sta maciullando ma guarda un dettaglio quanta gente ho che mi attacca? tanto dovresti anche completare una quest eh forse si la completi se si spaccasse sto coso siamo in 8000 a distruggere sto fisilum intanto possiamo dire una cosa che eh i draghi a livello diciamo così qua 50 circa cominciano ad esserci se avete culo beccate l'evento che vi permette di farli fuori noi siamo riusciti a trovarne uno noi l'abbiamo trovato però non potevamo registrare effettivamente però eh vieni allontanati perché il tempo per il video ho qualcosa addosso e allontanati con qualcosa addosso che dovremmo piantare qui Darth Vulture ho un grande jellyfish ma ce l'ho già mi arrego si vabbè 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 sta fermo lì aspetta è un po' più complicato vabbè è uguale che se ne frega ok allora se il video vi è piaciuto mettete mi piace votate commentate iscrivetevi se avete consigli per il video del sabato scriveteli pure eh quindi niente per oggi è tutto al prossimo video ciao ciao